Siamo qui a Lecco, tre giorni di sport, tre giorni di ciclismo, bike up. Qui si ha la possibilità di vedere e di provare bici elettriche, bici con pedalata assistita. È un modo di fare sport alternativo. Hai una moglie o un marito un po' sedentari? Vieni a fargli provare una bicicletta pedalata assistita. Se non sei più così giovani, cominci a fare fatica? Vieni a provare una bicicletta pedalata assistita. Vedrai che ti toglierai parecchie soddisfazioni. Qui a Lecco non è un caso che ci sia bike up. Ci sono tantissimi bei itinerari da fare, sia su strada che su sentiero, raggiungere cime e rifugi bellissimi. Quindi il mio invito è veramente a venire qui a bike up a provare e vedere queste bici fantastiche. E poi vale il detto, hai voluto la bicicletta e ora pedala. Ovviamente con meno fatica.